ciao a tutti eccoci qua con un nuovo tiguan 2019 dicembre 2019 color tuxteno cerchia di 19 sebring davvero bellissima con questo allestimento airline vediamo le varie attivazioni fatte come potete notare è stato attivato il display con la grafica polo gt che trascina il colore sulle lancette sia dei giri sia della velocità sono state aggiunte tutte le velocità intermedie e cambiato il fondo scala a 280 all'ora in questo caso sono una versione ormai 2020 abbiamo potuto inserire anche il logo r che il proprietario ha scelto altrimenti in alternativa c'era il logo r line all'interno del nostro navigatore abbiamo inserito tutti i punti di interesse quali velox mobili velox fissi tutor e tutta una serie di punti interesse a rischio di multa abbiamo anche fatto ve lo faccio vedere lo sblocco dei video in movimento in quanto quest'auto al discover pro media questo è un dvd inserito dentro al cassettino questo video funziona adesso perché siamo a macchina ferma ma vi garantisco che anche in movimento il video continua a essere riprodotto ora siamo in movimento e il video continua ad essere riprodotto questo grazie allo sblocco appena fatto successivamente veicolo setup è stato aggiunto il menu luce soffuse con tutta la grafica colorata la scala arcobaleno a dieci colori dove possiamo appunto come vedete cambiare il colore di tutto il display del discover pro ok la selezione sempre delle luci dimmerabili all'interno del nostro quadro a quest'auto sono stati poi attivati il coming home automatico il selettore in posizione zero andiamo a spegnere completamente le luci all'esterno dell'auto e anche quelle poi all'interno che sono l'illuminazione generale interna abbiamo poi attivato che l'illuminazione di tutta di tutti questi pulsantini qua che di sera si accende in modo on off si accende in modo diffuso e si spegne in modo diffuso un po come già fa la plafoniera di serie quando accendiamo l'auto di sera si accende in modo diffuso abbiamo attivato anche il climatronico la velocità delle ventole quindi anche in versione automatica ci fa vedere a che velocità sta andando la ventola e anche l'antifurto con l'aiuto del clacson e niente questo è tutto quest'auto veramente bellissima da vedere dentro con gli interni in alcantara bellissimi niente continuate a seguirci mettete un bel mi piace al video e soprattutto un bel mi piace alla pagina ciao a tutti